In canta e in fiamma il popolo dei social la bellissima Annalisa Scarrone, che oggi condivide una serie di scatti con un outfit da far girare la testa. Annalisa Scarrone da diverso tempo ha dimostrato di avere diverse doti con le quali può conquistare il popolo dei social. Infatti inizialmente ha conquistato tutti ad Amici, dove 11 anni fa è arrivata al secondo posto. Poi ha avuto inizio la sua carriera fatta di tanti successi e sensualità. Proprio questa seconda caratteristica continua a mostrarla quotidianamente sul suo profilo Instagram. Proprio sul suo profilo social infatti vanta oltre 1,5 milioni di followers, ed i suoi scatti fatti girare la testa a tutti. In particolare quelli di oggi, dove si mostra con un outfit da infarto, soprattutto per quanto riguarda un particolare top. Popolo dei social completamente imbambolato quando spunta un nuovo post della splendida Annalisa. La cantante infatti riesce quotidianamente a lasciare tutti senza fiato con i suoi outfit e le sue pose che fanno impazzire i suoi milioni di followers. Quest'oggi sul suo profilo ufficiale condivide una serie di scatti, precisamente quattro, dove prima si mostra in bianco e nero con un top che è minuscolo e lascia sognare tutti. Poi cambia abito ed è vestita tutta di arancione, per poi terminare con un mini vestitino nero di pelle, che rende impossibile non rimanere incantati davanti a tanta sensualità. Le foto fanno parte del servizio per GQ Italia, mentre i followers riempiono di mi piace il post, portando anche la Warner a commentare con due emoticon del fuoco che fanno capire quanto sia bollente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.